Se in Italia diminuiscono, in Puglia invece sono in aumento. Parliamo delle vocazioni. La crisi demografica che riduce il primario bacino di reclutamento rappresenta una delle ragioni del calo del numero dei sacerdoti italiani che sembra accentuarsi dopo un periodo in controtendenza tra la fine degli anni 90 e i primi del nuovo millennio. Lo ha affermato il sociologo Luca Diotallevi, docente dell'Università di Perugia che ha presentato all'Assemblea della CEI i dati statistici più aggiornati sul clero italiano. Il calo, ha detto, è più drammatico per gli istituti religiosi i cui membri sacerdoti sono scesi complessivamente di un terzo dal 1970 ad oggi. È meno accentuato per quel che riguarda i preti diocesani scesi di un quarto passati però rapidamente da 32.482 del 2003 a 29.269 del 2013 con una perdita secca del 10% in un solo decennio. In controtendenza, come dicevamo, risulta una sola regione, la Puglia. Che ha guadagnato invece un più 10% nello stesso periodo. In aumento rilevante le vocazioni a sacerdozio sono anche in alcune diocesi della Lombardia ma altre due regioni hanno perso invece il 20%. E il calo risulta ancora più evidente a livello nazionale se si considera il numero delle ordinazioni scese dalle 439 del 2003 alle 347 del 2013 il che significa che il clero beneficia del generale aumento della durata della vita del nostro paese ma l'età media sale sensibilmente dai 60,3 anni del 2003 ai 61,7 dell'anno scorso. E dunque si preparano tempi molto difficili se si vorrà garantire il servizio pastorale alla popolazione italiana anche perché è sensibilmente diminuito il numero degli stranieri ordinati sacerdoti in diocesi italiane passate dagli 80 del 2003 ai 32 del 2013.